Ah, americano che senti... Che, 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 che... Sono calmo, sono calmo RUCA Lo so, lo so! Impulatore! Oh, lo sono per dire io! Sì, sì Lei, lei... Sta arrivando Come sta arrivando? Qua, qua! È arrivata prima Perfetto Manuel! Sei in bagno? Sì! Perfetto Oh mio Dio, ma cosa è successo? Chi è che è stato? Ma vai a quel paese Che c'è? Che c'è? Non è più bagnato? Manuel, non perde male la mosca Vedi? Te l'avevo detto Manuel va bene Cacchio! E sto pomodoro brucia! E sto pomodoro brucia! Che soggetti... Comunque ti sei preoccupata? Stavamo girando No, guarda... Il copione? Se vuoi dare un'occhiata? No... Un'otto almeno! Un'otto almeno! Mmm, bello! Era al contrario! Peggio! Un'otto almeno! 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 Scusa, tu da quante risiedi dentro? Io dovevo solo fare la cacca! Ma questa cosa più architettonica? La citazione! L'hai capita? Il trono di spade? Non mi chiede, non mi chiede. Non l'ha capita! Non l'ha capita! Non posso fare la cacca! Fa la cacca! Fa la cacca! Dai! Speravo a cambiare una replica e mi capo mi cessa qualcosa! Come il Titanic! Ogni volta spero che Rosso spassi quel culo e lo faccio sedere su! Messo niente, muore ogni volta! Comunque vada Leo, io sto contento! Mi hai provato sfiga, dai! Ma è un tatuaggio? Eh sì! Ah, che cos'ha? Simbolo di Assepticon! Ah, beh! Te lo faccio passare, lo sbrodzi e se ne fanno cose stupide! Ma è un altro sconso! Manuel! Ehi se avete trovato i miei svegetaniani! Ehi se avete trovato i miei svegetaniani! Ehi tutti i miei svegetaniani! C'è un pezzo raro per quello! E poi tu hai tutto di Spider-Man! Non le mutande! Ehi, Fede! Giacomo ci ha appena invitato ad una festa! Vuoi venire? A parte che io Giacomo l'ho visto due volte messa in croce e poi devo finire questa e ho appena iniziato! Eh, dai, va bene, ti aiutiamo dopo noi! Facci compagnia, dai! Te lo sai come mi concio dopo le feste? Beh... Ci siamo sempre noi con te! Sì, ho capito, ma questa come la finisco? Va bene, dai! Ci vediamo più tardi, allora! Ok! Buon lavoro! Buona serata! Sì, salve! Vorrei ordinare un menù da sporto numero... 13! Perché sta parlando in cinese con qualcun altro? Perché... Non capisco cosa sta... No, non ci sono i noodles! No, la zuppa di miso e il menù misto di sashimi e sushi! Perché 20 euro? Qua c'è scritto 12! No, non è meno 12! Il tlelici, sì! Eh? No, non voglio anche la bibita! Sì, una margherita! Per l'altro va bene! Ok! Era così semplice! Guarda che non sembrava proprio che stessero insieme! Perchè non sembrava proprio che stessero insieme a Jennifer Lawrence! Perché non sembrava Jennifer Lawrence! ... ... ... ... ... Oh my god! Let the sky go Holy process of you Don't you ever say I just walked away I will always want you Rockin' me like a rock'n'roll 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 sento Federica siamo a casa shhhh ma questo questo è di Giacomo è di Giacomo l'ho presa io no Luca l'ho presa Luca Luca io vado a dormire no ciao Giacomo ciao Giacomo Federica siamo a casa no no non lo voglio fare a te tu non sei la mia reale madre a noi no cos'è per un amore è mio ok e quella chi è è Stefania ti ricordi quella del numero di telefono ah ok e l'ho portata qui per fare colazione vedo sono io la colazione Giovanni Luca Giovanni si è presentato sul pavimento e è andato al lavoro Luca ancora non è tornato e dov'è? devo andarla a prendere da Giacomo si così deve andarla a prendere da Giacomo si ce la faccio 5 minuti l'indirizzo di Giacomo? lì sul calendario il calendario mamma ciao ciao Fede sei arrivata sei venuta a prenderci prenderti pre sei qui andiamo a casa sei già a casa abbiamo fatto presto è stato come il mondo andava tutto oh aspetta quello è quello è quelle bomboniere è un problema non dire eh quanti si passa di lui non so però vabbè Giacomo lo conosco poco e poi è giusto dire abbiamo visto un oro da paura cioè? l'ha girato lui con i suoi amici eh ok eh comunque arriva un pacco oggi pomeriggio filmi tu? un altro? eh si è come una malattia bella metterlo il primo passo verso la paura il giorno eh va bene dai Sara facciamo dieci dieci e mezza qua sotto ciao ciao la GVT la GVT la GVT supereroi no allora per le persone normali oggi è San Patrizio e i programmi sono ben altri eh ma Luca e Manuel? sono a girare un corto di tecniche di ripresa dai vediamo com'è ero come l'1 2 3 po' di Avengers ma non esiste tante che le ho già vissi non mi vado di vedere lì più dai non vado come maratona no l'ho fatta e adesso la serata ehm di sì eh la serata di sì eh dai ho la maschera di Batman tu fai Robin no di sì di no sì una sì sì un attimo è la Sara oh cazzo ciao 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 ma chi è alzito? è mio padre ah si beh andiamo che sei meritato andiamo andiamo ok ragazzi è andata c'è solo una cosa da fare chiamiamo qualche polassa frugare tale cose della fede? no vabbè io intendevo aspetta beh quella maschera? se Federica ci scopre almeno posso dire che sono Spider-Man giusto hai ragione buon'idea e questo cos'è? oh no no non aprirlo e sai come se The Possession che esce fuori un demone e ci fotte tutti? che The Possession ha visto? sugli porn? basta io glielo apro e se il posto di essere un demone fosse della droga? spiegherebbe molte cose eh ma sono assorbenti c'è pure un messaggio fatevi i cacchi vostri ma ci spiega? e poi tu come fai a sapere che sono assorbenti? fatti eh ho due sorelle questo spiega tante cose e quello non ti mettiamo a posto allora come dicevo c'è l'unica cosa da fare guardare Thor per la quarantesima volta pensavo dicessi bene quello durante e dopo andiamo questa belanda mi piace la sarà fantastica un'altra cosa è necessario? per entrare mai nel film? un piccolo incidente che peccato perchè quel gesto? su 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 colpiscilo colpiscilo come se ne avessi mai fatto ah bravo bravo no aspetta 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 un momento Luca Jason non parla? no hai ragione ok ok allora cambiamo prospettiva forse così ti viene un po' più naturale e poi la postura poi oh una bella luce alla la la jj abrams ok perfetto colpisci ora adesso di qualcosa capitano america sembra che te lo stai facendo suonare e basta eh cosa devo dire questo non capisco niente che brutto capitano america che abbiamo senti tu non sei lì di fare capitano america ecco qua non male il figlio di odino allora come la facciamo la scena? allora secondo me ci vuole un po' la tua bella larga di fare il colpisci bella larga sei mai lì allora azione aspettate tu non sei degno ti deve cadere il martaglio ecco meli jane ma non possiamo fare che jason il martello è alza innanzitutto jason non parla eh no era bellissima ragazzi comunque era bellissima ma cosa state facendo? jason versus the rangers è uno scontro improbolibile lo sapete vero? no aspetta 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 devi vedere questo guarda guarda cosa abbiamo guarda 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 hai visto? lo scudo di capitano america? no è un cartello stradale no ma lo scudo di capitano america quello fatto di vibragno eh no è un cartello stradale e dove l'avete preso quel cartello lì? no non lo voglio sapere no davvero è una vera storia quale parte di non lo voglio sapere non ti è chiara? non chi ha scritto la sceneggiatura? ottimo la sceneggiatura splatter sono uscite perchè? e' l'offra salutiamo fuori? ciao fra andiamo di là non ti muoviare buon tale il cartello no si dai fiuriodina andiamo no Dino andiamo sono vivo ciao fra ehi ciao ti disturbo ma va accendi la luce perfetto bello Chris Hemsworth visto me l'hanno regalato al cinema ma chi è ma niente agenzia dell'accademia se non facevamo un progetto di gruppo poi sai come vanno queste cose no? come va lì? bene bene sto vedendo un po' di accademia nella zona ottimo 3, 2, 1 propano di capitano America sangue oddio è morto aspetta mi sa di sì dobbiamo portare un pronto soccorso no no che è pronto soccorso ti devo lasciare perché mi sa che mi stanno distruggendo la casa tranquilla ti scrivo sul cellulare ok va bene ciao 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 domani è giovedì domani è giovedì giusto domani è giovedì domani portano via l'umido e quindi possiamo prendere e svuotarlo di sotto nei bidoni no niente possiamo lasciarlo giù tanto domani lo portano via prende 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 veloce 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 ma state fingendo vero scappa 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 abbiamo ucciso è morto come sento? abbiamo ucciso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti